Ormai Leone sta diventando grande, addirittura indipendente, ordina un succo di mila. Naturale! Succo alla mela dico! Per favore! Per favore posto il succo alla mela perché mi piace tanto! Il succo alla mela? Mi piace tanto! Bene, perfetto, ve lo portiamo subito! Grazie! Prego! Al Leone piace molto il succo di mila e se lo ordina da solo, così è indipendente e non deve chiedere a mamma e papà. ... ... ... ... ... Grazie a tutti.